Non più un fenomeno di nicchia, anche se non per tutti, il vino diventa finalmente per molti. Era ora, dicono i produttori, che tengono aperte le cantine per permettere un viaggio in un mondo di cui il consumatore conosce solo il prodotto finale. Bere sì, purché si faccia in maniera consapevole. Il senso è questo, il movimento turismo del vino ci crede. Nella zona di Castel del Monte si celebra il Nero di Troia, vitigno autoctono del territorio. Perché è così tanto successo questi vitigni autoctoni? Beh, perché alla fine è una cosa legata alle maggiori conoscenze, ai maggiori interessi che c'è per il consumatore, per il vino. E quindi, quando c'è interesse per una cosa, si cerca sempre appunto di trovare il nuovo, di trovare la novità. La visita in cantina è il pretesto per far festa. Quest'anno c'è anche il marchio Made in Carcere, sui braccialetti realizzati dalle detenute del penitenziario femminile di Trani, in omaggio con l'acquisto di un calice per la degustazione. Il comune denominatore è il vino, naturalmente, servito ovunque, pensate, anche con il gelato, sempre e soltanto il Nero di Troia. Perché il Nero di Troia? Perché è un vitigno che ha quel frutto, quella capacità di affascinare la gente, quella rotondità, quella armonia, quella pienezza, quella corposità, tutti elementi che oggi fanno sì che un grande vino venga apprezzato da un grande pubblico.